grande anche in finale potrebbero raggiarci altri 81 punti forse anche qualcosina di più, mezzo punto glielo potrebbero anche regalare è partito molto soft sulla piattaforma e anche soft l'ingresso in acqua 85,50, 3,9 e mezzo per Francesco peccato che non sia uscito un 10, se lo sarebbe meritato tutto nervi saldi Francesco Dell'Uomo, il prossimo tuffo è il triplo e mezzo ritornato raggruppato e tu lo sai fare molto molto bene, lo hai sbagliato in eliminatorio ma non lo sbagli mai due volte di fila goditi questo momento, sembra di essere da Indove in 2008